Come tua sposa? Come mia sposa? C'è un problema con l'anello di là? Perché? È stretto Ma sono da lei gli anelli? Sì È stretto Siete consapevoli che vi state inserendo attraverso il sì che tra poco direte nell'eternità dell'amore questa consapevolezza chiara, bella, profonda vi ha fatto anche incontrare perché diventiate una cosa sola A presto No, 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 no. 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 No, no.